a far crescere il vostro canale youtube mi scriverò i consigli di tutto quello che ho imparato su youtube in questi anni io vi saluto e spero di rivedervi presto che video mi storge perché non mi ricordo più c'ho proprio il tatuaggetto tra l'altro e siamo in mezzo al vento guardate che cosa esce tra no, no tra domani no, vabbè, manca di così possiamo farci una cosa insieme certo, come no anch'io ok ciao Sì, siamo levati il telefono, sì, siamo levati il telefono, non voglio vedere che fai. Continua, continua, ora ci pensiamo noi a te. Per tutti quelli che stanno a scrivere in direct, gli avemo rubato il telefono a questo coglione. Sì, siamo levati, ora che volete fare? Scrivete tutti, scrivete, 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 fate come vi pare, coglioni. Nabbio, abbiamo letto che stai a fare questa canzone? Questa canzone è merda come quell'altra. Fai schifare il cazzo e ti meriti solo questo. Eh, andate a leggere, abio, andate a leggere. Andate a leggere, abio, che abbiamo lasciato un bel regalino. Vorrei vedere proprio la faccia di quel coglione, mentre sta a piangere, che non riesce a ritrovar il telefono. Questo coglione, non si merita un cazzo nella vita, non si merita veramente un cazzo come tutti voi ragazzini. Mamma mia, ora voglio vedere come fai video, sto fallito.